Io sono, vede di rimandare a Netflix, che rimande che significa questo per Netflix, per me è un assoluto no, è un premio di un posto che la mia immaginazione ha sito sempre migliore. Un leone d'oro che indubbiamente non ha sorpreso nemmeno lui. Un leone annunciato, anche se meritato, quello a Roma di Alfonso Cuaron, nel ritratto di una famiglia messicana negli anni 70. Un film ispirato alla sua famiglia, o quantomeno alla sua tetta. Una pellicola in bianco e nero, con spunti intimisti, gradevoli, una resa neorealista riuscita, e qualche tocco di ironia a stemperare la crudeltà di alcune situazioni che non hanno mai sopravvento sull'amore, l'affetto, la generosità, l'umanità. E' un canto dell'amore, con tutte le contraddizioni insite a questo sentimento che si esplica a tutti i livelli. Un film che si può definire interessante, ma che ha riproposto la polemica della vigilia. Come può una pellicola distribuita sulla piattaforma Netflix vincere ad un festival del cinema? Un evento culturale, tra l'altro sostenuto da fondi pubblici e destinato a non poter essere visto da tutti, anche se sarà distribuito nelle sale di alcuni paesi, Italia compresa. Vivace la reazione dell'Associazione degli Autori e della grande distribuzione che invitano il direttore Alberto Barbera a riflettere sulle scelte per la prossima edizione. Venezia 75 comunque decolla con il 12% in più di biglietti venduti e un incremento degli accrediti del 25%. Una rassegna che attira, anche per il richiamo internazionale, anche Roma. Buone possibilità di finire tre candidati all'Oscar, la presidenza di Guillermo del Toro, che l'oscurso anno ha vissato Leone Oscar e un buon viatico. Annunciati anche Leone d'Argento della giuria a The Favourite di Orgos Lantimos, finché porta a casa anche la Coppa Volpi per la miglioratrice Olivia Colman, un doppio riconoscimento per il quale è necessario anche il voto del direttore della rassegna. Leone d'Argento per la miglior regia a The Sister Brothers di Jack O'Diaco, Pavolpi a Willem Dafoe per Eternity's Gate, il consapevole Van Gogh. Miglior sceneggiatura al Western dei fratelli Cohen, premio speciale, infine a Jennifer Kent, regista di Nightingale, unica donna in gara pesantemente offesa da un giornalista allontanato immediatamente dalla manifestazione. Ancora una volta però il cinema italiano resta a bocca asciutta, si consola con qualche premio collaterale. Poca cosa si era portato a livello generale delle opere in concorso. In molti casi anche i film più accreditati sono apparsi un esercizio di stile virtuoso, con un'ottima fotografia, un brillante montaggio, ma dove la storia ha rischiato di evaporare nella ricerca di un effetto che non è riuscito, a nostro parere, a regalare quell'emozione che è l'essenza stessa della settima arte.